Ciao ciao Ciao, amica o amicolo sono Miss Fammesape, grazie di essere qui se vuoi essere aggiornato sulle notizie di gossip, news, anticipazioni, iscriviti e attiva la campanella per visionare altri video, è arrivata la vostra passerina dal web e ha cinguettato che Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser hanno partecipato al GFVIP 5 anni fa oggi hanno svelato dei particolari piccanti e curiosi accaduti dentro la casa, Cecilia e Ignazio sono intenzionati a convolare a nozze e nel settimanale chi hanno svelato dei segretucci sull'inizio della loro storia nata nella casa del GFVIP 2, la coppia ha anche ammesso di aver fatto l'amore nella casa di Cinecittà e nessuno se ne è accorto neanche le telecamere Lo abbiamo fatto nella casa e non si è visto, c'era il cofano del letto? Potevi aprirlo? Lì ho messo tutte le lenzuola intorno? Siamo entrati tutti e due? Poi però lui ha lanciato le mutande Amica o amico sono soltanto voci, bisbigli, rumoreggi, voci di corridoio, non c'è niente di sicuro e del domani non c'è certezza E tu cosa ne pensi? A presto con nuove anticipazioni, news, indiscrezioni, non dimenticare di mettere un like Un saluto da fammesapè Ciao amica o amico Attiva di guardare altri favolosi video clicca sul filmato scelto Non dimenticare di iscriverti al canale, attivare la campanella e lasciare un like e commentare Cercaci anche negli altri social chiacchiere in tv Per noi è importante e ci ripaga per il lavoro svolto Un buon cammino nella vita Un buon cammino nella vita